Costretto a fare la conta dei presenti, neanche si dovesse andare in gita scolastica. Bruno Tedino deve tornare a fronteggiare le assenze dei convocati in nazionale, presentandosi davanti al Carpi, ospite domani alle 15 al Barbera, senza cinque potenziali titolari. Nestor Oschi, Traikoschi, Ciocio e Vestruna, Balog e Posavec sono altrove e domani non ci saranno, così come gli infortunati Bellusci alle esami Ingegneri e Morganella. Una sorta di ecatombe alla stregua delle peggiori epidemie. Costretto il 3-5-1-1, composto da Pomini tra i pali, Davidoviz, Rajkovic non al meglio e Gimischi in difesa, Rispoli, Ignore, Iagliolo, Muraschi, Rolando non al meglio, con Fiordellino alternativo a centrocampo, Coronado e Lagumina in attacco. Difficile, anche se non impossibile, che Moreo possa partire da titolare o al posto di Lagumina o a fianco a lui con un centrocampista in meno in mezzo al campo. Vietato a fermarsi ancora per i rosa, già attardati di tre punti, anche se con una partita in più da giocare rispetto al Frosinone, secondo in classifica in Serie B. Terzo confronto ufficiale a Palermo, quinto in totale tra Rosanero di casa e Carpi. Mai hanno vinto i siciliani con bilancio di un pareggio per 2-2 nella A 2015-2016 ed un successo bianco-rosso 2-1 nella B 2013-2014. Arbitro della sfida sarà Davide Gherzini di Genova.